Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignol. Massima prudenza in FIPILI per incidente tra la Strassigna e Scandici in direzione Firenze al chilometro 5 e 600. In A11 tra Capanno e Rialto Pascio in direzione Firenze incidente al chilometro 49 e 300. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze per lavori in corso, rallentamenti in entrambe le direzioni, Tavadesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza del viadotto Filinelle nel comune di Barberino Tavarnelle. Sul ponte Vespucci a Firenze per lavori dal lunedì 15 maggio, chiusa la direttrice lato centro con doppio senso sulla semi-carreggiata lato Cascine. Provvedimento in vigore fino al 13 giugno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!